amici ed amiche del canale dub logistica youtube un caro saluto a tutti voi e bentornati a questo nostro appuntamento del sabato con trader life simulator 2 come sempre faccio ringrazio gli sviluppatori della dna dna army per avermi concessa la chi come sempre vi invito a lasciare un bel like al video se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi e soprattutto campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% visita il sito www.ipianibio.it nella descrizione del video naturalmente troverete tutti i link che vi ho elencato che sarebbe il link per acquistare il cibo biologico italiano dai piani bio i miei canali social e mi raccomando se non siete iscritti al canale fatelo perché è totalmente gratuito naturalmente mi permetterete di poter crescere un attimino mi raccomando lasciate tanti bei polizioni in su ai video e commentate se questa serie vi sta piacendo allora ragazzoli intanto vi auguro buon sabato e buon fine settimana come sempre e saluto moreno mister moreno schiettuzzo e tuzzo oltre naturalmente saluto tutti i miei qui state commentando lasciando dei bei like naturalmente quindi a voi a un ringraziamento speciale nell'episodio precedente noi ovviamente abbiamo dimenticato di sbacchettare un po di cosucce vatti ho lasciato un po tutto come nelle visite precedente ne abbiamo acquistato la macchinetta questa qui che ci permetterà di di creare le famosissime grigliate dello ziodab poi abbiamo fatto un po di rifornimento e quindi oggi ci sistemiamo un pochettino di merce perché intanto abbiamo acquistato anche nuovi prodotti nuova pasta e quindi sto pensando ragazzoli che dovremmo andare ad acquistare probabilmente molto probabilmente mi sa che ci servirà un espositore perché mi sto rendendo conto che lo spazio inizia a scarseggiare quindi andremo a fare un saltino dalla furniture del fornitore dei superlettili della situazione e quindi andiamo a fare quel loro prezzo prezzo tanto ci sistemiamo un pochettino l'acqua qua ci sistemi un po con le cose ovviamente andiamo a prendere anche un po di questa scaffalatura che ci serve ci serve ci serve ci serve allora la colla la mettiamo la poi ho preso water bottle yeah oh yeah queste non possono mancare ragazzi non fate mai mancare l'acqua perché vi assicuro che le bottiglie d'acqua se ne vanno come l'acqua ho fatto la battuta ho 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 e va bene ragazzi anche anche lo zio d'acqua ogni tanto si diverte a fare le battute c'è scadute allora ci siamo quasi i pretzel i pretzel che prezzo e lo fanno i questi ragazzi i pretzel o questo mi ha attraversato come se fosse un fantasma i pretzel amici mi raccomando non fatele mancare perché sono articoli molto 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 richiesti ecco qua ecco qua ovviamente ogni volta che io vi ho consigliato di di fare il riassortimento in orari di chiusura è proprio per questo motivo qua come avete ben visto a farvi le tuzze e tuzze con i clientozzi buon sabato ancora una volta ragazzuoli e fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo e se vi siete persi l'episodio precedente non vi preoccupate come sempre vi ricordo che trovate la playlist dove sono contenuti tutti gli episodi di trader life simulator e ciao a tutti e ciao a tutti e grazie a tutti i dna developers per la cura e non dimenticare a share questo video like e a leave a link below e let me know what do think about this wonderful game. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my friend. D'Etherjord. Privet, Privet. Chissà se si sbloccherà un giorno questa cosa qua sotto, chi lo sa. Allora, facciamo un attimo un momento locale, vediamo cosa ci manca. Allora, kit shampoo, quindi Dai ha perso l'abbiamo presi, l'abbiamo esposte adesso, orange juice purtroppo non possiamo acquistarlo perché ci vuole il frigorifero con la can chocolate cookies. Ok, allora andiamo da ceo bene, ci facciamo un saltino nel frattempo. Allora, vediamo un po' le mele, ce ne abbiamo ancora qualcuno quindi. Le cipolle, ah cipolle ce n'è uno solo. Povero Morino, povero Morino, sono finite le cipolle. Non devi preoccupare Morino che nel prossimo episodio le andiamo a comprare. Allora, andiamo da Jabber, ci vediamo direttamente da Jabberozzo, da Jabber, Jabber. Ah ma porra ragazzuoli. Certo che per arrivare da Jabber qui ci sono un sacco di curve pericolose. Dangerous. Dangerous. Vediamo se ci ricordiamo cosa ci manca. Allora ci mancano i bottini abbiamo quasi parcheggiato. Buongiorno Jabber, buongiorno zio Dabba, ma che fai parcheggi dentro al negozio? Eh, Jabber, qua la macchina è pericolosa. Oh, Jabber, ti sei fatto questo posto? Eh zio Dabba, visto come sono vacante, vado a una cerimonia. Ah, che brava Jabber, ci ammette che fai al ristorante, eh? Eh sì, eh sì. Va beh, Jabber, qua faccio un po' di spesa perché salutiamo anche gli amici di YouTube. Eh sì ragazzi, a proposto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche e lasciate un bel like sotto al video. Grazie Jabber, ci becchiamo alla prossima. Va bene, zio Dabba, tutto a posto. Ciao Jabber, faccio la spesa. Ciao, zio Dabba, ciao. Ok, ci fermiamo qui, adesso andiamo, ci spostiamo un ad acquistare un paio di scaffali perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Buon sabato naturalmente, buon fine settimana a tutti. Potremmo iniziare a valutare di metterle su più piani, no? Questo quanto costa? 120, questo 100. Però 120, ci abbiamo qualche ripiano in più, però un po' scomodo. Allora, oh, però questo costo 40. Va bene, allora facciamo così, ne prendiamo uno, due, tre, quattro e cinque, così occupiamo tutti gli slot. Eh, ragazzi, non conviene al momento perché purtroppo costicchia. Questo, questi sono i frigorifero. Oh, il prezzo non è male. Allora, cheese, herb, ok, quindi questo è il banco per i formaggi. Questo è il frigo, frigo mille, duemila e ragazzi c'è... Wheat, oat, cheese, herb, more cheese, soft. Choose your bread. Ah, choose your bread. Quindi si potrebbe mettere... Ok, ragazzi, abbiamo visto che effettivamente ci sono delle belle cosucce. Adesso però, banda alle ciance, ritorniamo a negozi e andiamoci a sistemare. La situazione, ci vediamo direttamente al negozio, ragazzi. Ah, fa poco. Oh, via, eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al negozio. Adesso andiamo a... Facciamo attenzione che questi ci fanno danni alla macchina Hudson. Allora, vediamo un po'. Allora, mettiamo uno qui di fianco perché dobbiamo un attimino fare qua. Poi qua a fianco iniziamo a mettere un po' di roba un po' più... In maniera un po' più decente perché ragazzi vi assicuro che non si potrebbero vedere qua. Allora, ci abbiamo tre scaffalature là, tre qua. Allora, questi qua, quasi quasi... Mettiamo le altre due qua. Mettiamo due di qua e due di là. Uno. Dobbiamo iniziare a dare un po' una parvenza di supermarket, supermini market. Il nostro giginillo di fiducia, ecco qua. E adesso possiamo anche iniziare ad essere un po' più... Un po' più sistemati perché... Prima con tutti quei... Con tutta la merce, diciamo, accantonata, non era proprio bellissimo da vedersi. Qua oggi lagga pure un pochettino. Allora, i cereali... Iniziamo man mano e cercheremo di... Creare... Le parti, diciamo così, delle... Inizieremo a mettere un po' più cose in un unico punto. Quindi... Ad esempio, cleaning, spray... Quindi tutta la roba che riguarda la pulizia la metteremo su un unico scaffale. L'ha fatto con un bello saltino. Questo è chocolate cookies, quindi... Le mettiamo qua. Farina... La farina... Questa è la farina dei piani. www.ipianibio.it Vai, campanellina! Mi raccomando, acquistate con grande fiducia... Dalla azienda agricola, i piani, la vera azienda biologica italiana. Scendo, non scendo che si trova alle rendici del mondo cucco. E fai il barbacucco. Eccoci qua. Abbiamo fatto pure la battuta. Zia Tap, ma cosa dici? Dici a vedere i giorni, ragazzi. Ci devi vedere i giorni. Ragazzi, ecco qua, vedete? Ho iniziato a spostare anche un pochettino la merce. Cioè, infatti, sto cercando di dividerle per tipologia. Quindi, quello che riguarda la pulizia più in generale. La sto mettendo da una parte. Quindi, la pulizia della casa, degli ambienti. L'abbiamo messa in un posto. Poi, magari, man mano ci organizzeremo un po' meglio. Perché, ovviamente, non è che... Così, su due piedi, uno riesce un attimino a... A fare la cross. Allora, ragazzi. Vediamo un attimino cosa dobbiamo acquistare. Che ci manca. Allora. Banca... Regular Blanc. Quindi, diciamo che la candeggina. Chiamiamola candeggina. Candeggio. Cand... Cand... Noi ci ricordiamo che cose. Poi, cos'altro manca. Chiamola si è rimasto. Perfetto. Poi, manca... Ehm... Manca, manca, manca... Shampoo. Bello complicato, ragazzi, questo giochino, eh. E... Complimenti agli sviluppatori, perché... Poi, man mano che si avanza, diventa sempre più complesso. Sempre più complicato. Come dice... Lino Banfi. Che salutiamo naturalmente. Ma... Non so nemmeno chi è questo canale. Chi è che mi sta chiamando in questo momento? Grande... Grande Lino. Lino Banfi. Ci... Dobbiamo... Dobbiamo... Dobbiamo fare una cosa, spero eh. Ci dobbiamo andare a fare una bella dormita. Perché a Trimonti questo schiatto. E dopo ci dobbiamo accapessare il resto. Ho visto due schiatto. Scusate... Dog food e cat food, ok. Allora, ci vediamo direttamente domani mattino. Buongiorno mondo. E buongiorno... Buongiorno ragazzi. Ecco qua, ci siamo svegliati. Allora... Ho visto che sono finite le scipolle. Uè, Peppi, buongiorno. Uè, zio da buongiorno. Oh, Peppi, si è fatto questa... Tutto vestiti alla miseria. E grazie, zio da buongiorno. Qua... Bisogna stare tutto bello e sistemare. Bravo, bravo. Peppi, io... Vado avanti. Vai tranquillo, zio da buongiorno. Grazie, Peppi. Oh, ragazzi. Abbiamo fatto un bello affare oggi, eh. Ci abbiamo... Un bel po' di cosa succede che abbiamo presso. Allora, diamo un attimo un'occhiata. Vabbè, dobbiamo prendere due cose, quindi... Peppi, vediamo. Vabbè, buona giornata. Guardate, Peppi. Vediamo subito da Jabber. Mi raccomando, fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo. Lasciate un bel pollicione in su. Commentate, commentate, commentate. Mi si è azzeccata la lingua, direttore. Ue, ue, ue. Un tempo fa... E lascia. Ehm... Canto mi sono scordato di cosa... Cantecino. Ok. Canto, Cantecino. Ce l'abbiamo. Olio per friggere. Ok. Poi... Ehm... Body oil. Questo me lo ricordo. Peppi, e quando mi costi? Ehm... Zio Tapp, sei già tornato? Eh, Peppi. Devo prendere le mille scappo. Va bene, zio Tapp, vai tranquillo. Buona giornata. Grazie, pure a te. E quando mi costi? Pisch... Mille, mille. Ecco qua. A posto, vado. Ci vediamo direttamente al negozio. Una cosa molto importante, ragazzi. Mi raccomando. Ehm... Quando uscite dalla partita, mi raccomando andate a riposare. Perché altrimenti rischiate di... Ehm... Di avere lo stato di salute, diciamo così, non in perfetta forma. E quindi di conseguenza poi... Vi toccherà anche... Pagare le cure... Mediche. E vi assicuro che... Ehm... Non è assolutamente... Economica. Allora, ragazzulli. Siamo giunti al termine di questo video. Naturalmente, io vi ringrazio... Di averlo guardato fino... A questo momento, naturalmente. Non dimenticate di lasciare un bel like al video. A condividere. A commentare. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social. Il link di campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, acquista visitando il sito www.ipianibio.it Li trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie mille a tutti. Thank you so much. E... Stato buono a you. Da me e da Vicenza, il nostro caporeparto di fiducia. Stato buono a you. E buon sabato e buona convivazione. Tutto buono a tutti. E buon sabato. Per averlo guardato. E buon sabato e buon sabato. E buon sabato. E buon sabato. Grazie a tutti